Chiedi di lasciare un mi piace in modo originale Allora raga Non posso fare proposte indecenti perché poi per questioni di family friendly non posso portarvi contenuti con look vestito però Se questo video raggiunge 1500 like la prossima intervista doppia sarà con Trainer Tia E la facciamo più pesante di questa Mi piace ragazzi perché abbiamo invaggiato un grande regista che è il giorno 97 Quindi passate da lui E questo like Fatteci mangiare Prima di iniziare con l'intervista ragazzi statemi un attimo ad ascoltare Perché al raggiungimento di 1500 like oltre a fare l'intervista con quel cancro di Tia Vi farò uscire anche il background dell'intervista doppia con Luke Che ragazzi fa veramente pisciare addosso da ridere Vi anticipo che se troverete questo video divertente preparatevi perché quello che vedrete è la parte fra tantissime virgolette seria del video Gli intervistatori comunque sono Tia e Gio97 trovate tutti i link dei canali che hanno partecipato in descrizione Chiedo scusa per la location ma siamo poveri ed eravamo in un ostello Detto ciò Nome Giovanni Luca Nickname su YouTube Creepy o stories dipende Rock25 Detto anche Rock Etero o omosessuale Etero In sua presenza Non lo so Diciamo etero con varie dubbie Esatto Ti hanno mai fatto proposte indecenti? Nooo Cioè dipende Lui si Lui sono Tia Troppe Troppe Anche in questa stanza Racconta in breve Allora praticamente è successo che eravamo sulla freccia bianca per venire qua A un certo punto Tia doveva andare in bagno Mi ha chiesto di accompagnarlo perché non riusciva a reggersi la protuberanza E niente poi è successo quello che è successo E allora ho anche il Turix e la voglia ha preso sopra me Posizione preferita? Per fare l'amore Eh solo per dire prima però Ehm... Luke? Ah ancora che faccio di solito Ah cos'è? E' troppo difficile dire meglio Secondo me ce l'ho fatto Non mi ricordo ma c'è un numero per adesso No, no E' definito Troppo Ti hanno mai beccato col cazzo in mano? Si una volta No no sono serio Una volta ero in bagno e stavo pisciando E' entrato mio fratello e ho aperto le porte E c'ero io con la... con la roba In spiaggia Next o Millennium Millennium le copie sempre No io dico next per la vita Ponte di ispirazione Ponte di ispirazione Ponte di ispirazione No Ovviamente il divino No vabbè io Axon, Lore Anche Fabi J in realtà Quella reale? La reale? E' la mia E' la mia E' la mia Uno youtuber che elimineresti? E' 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 Bo In realtà non lo so Che eliminerei Eliminerei? No Magari Non ce n'è uno in particolare Di solito quelli che odiamo se ne sono andati No io non lo eliminare nessuno Forse è Pro 26 Non so Angelo sei vero Fabio E' schifoso E il tuo video è più brutto? E' questa la so Il giardino di Villa So che la gente mi conosce con quello E' terrificante E' uno dei peggiori video che esistono sul globo E' un ridere Ovviamente quando Non ho messo il buon pig C'ho nato Fai Quella volta Si fai inventitare Il tuo video più bello? Penso Se la prima generazione fosse la settima Perché è una roba totalmente originale Che non ho preso da nessuno Boh ce ne sono tanti Da soldi quando Quella varia l'argento Quella varia il zaffiro Un sacco di roba Bombe la passi Ah yes Ok Greta Menchi Passa Si bomba Si bomba Belen Bomba Bombo tutte Cristiano Ronaldo Passo Troppi muscoli Mi sento esaggezione Ho ragione in creepy Passo Chiara di Pokemon Millennium Eeeh Bombo E' una bella ragazza comunque Cosa stai per dire Seri Eh? Seri Favorevole o contrario? Rapporti gay Favorevole Favorevole C'è ne stessi solo su di me ovviamente C'è ne stessi A meno che non sia lui E' andato così gay E' andato così gay E' subito rovinato Ma falla con le spazze No 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 Eh sì Matrimoni gay Favorevole Contrario Contrario Ma sai quando accendete Favorevole 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 Eh dipende non lo so Favorevole 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 Facciate un like Un like Un po' di spavimento con un altro padre Alle orge Contrario Anche se in questa stanza però è contrario dai No ormai favorevole siamo tutti quei uniti Il materassi non è bianco per caso E appunto Quelli favorevole Tra la vita Sadomaso o fetish? Sadomaso o... Sadomaso Fetish ma proprio schifo Tra nel tante è abbastanza schifo ma dai La prima Anch'io Che tra l'altro è quella che direi Esatto Che faremo dopo nel prossimo video quindi Chiedi di lasciare un mi piace in modo originale Allora raga Non posso fare proposte indecenti perché poi per questioni di Di family friendly non posso portarvi contenuti con Luke svestito però Se questo video raggiunge 1500 like la prossima intervista doppia sarà con Trainer Tia E la facciamo più pesante di questa Facciate mi piace ragazzi perché abbiamo ingaggiato un grande regista Che è il giorno 97 quindi passate da lui un bello spam Bello spam Mettete sto like Discrivetevi Fateci mangiare cazzo Concludi come farebbe l'altro Mi raccomando lasciate un mi piace Che è importante per noi youtuber perché siamo Diciamo Abbiamo bisogno di like il vostro sostegno E' un piccolo gesto ma ci può aiutare Ma che cazzo è L'otto per mille E lui lo fa così C'è capito ma cazzo è un altro di 20 minuti Premete la campanella che ho rubato dal Krippi E Bye bye Non ho un'auto quest'uomo Ma come non ho un'auto? Questi miei auto sono praticamente studiati a memoria L'unica cosa che so a memoria Le mie video è l'unica cosa che... Lo vedete la campanella è molto importante ragazzi E al prossimo video E capite che qua non ci seguiamo ci vediamo E guardiamo i video Offendi l'altro C'è proprio una voce di merda zio 5.000 like 2.000 like in questa parte qua La metterò 3.000 3.000 like E' troppo poco Posso non fare di più Ma c'ho mezzo iscritto 3.000 like E Krippi fa un video in mutante Lasciate un mi piace Contate e iscrivetevi Ciao Ciao